Philip fu incuriosito da quella vita modesta e lei lo fece ridere con il fantastico racconto delle sue battaglie. Le chiese perché non provasse a scrivere qualche cosa di un genere letterario migliore ma lei era consapevole di non avere talento e la robaccia che scriveva non solo era ben pagata per quello che valeva ma era anche quanto di meglio sapesse fare. Non si aspettava nulla nel futuro se non di continuare la vita che conduceva. Non aveva parenti e i suoi amici erano poveri come lei. Non penso al futuro diceva se ho denaro per tre settimane di affitto e un paio di sterline per mangiare non mi preoccupo non verrebbe la pena vivere preoccupandosi anche del futuro oltre che del presente. Quando le cose si mettono male succede sempre qualcosa Philip presse l'abitudine di andare da lei tutti i giorni per il tè ma per non metterla in imbarazzo con le sue visite le portava dei dolci o una libra di burro o del tè. Presto incominciarono a darsi del tu. Per Philip la simpatia femminile era una novità e gli piaceva moltissimo avere qualcuno che di buon grado ascoltasse i suoi problemi. Le ore passavano in fretta e non nascondeva l'ammirazione che provava per lei. Era una compagna deliziosa. Non poteva fare a meno di paragonarla a Mildred e notava il contrasto tra l'ostinata stupidità dell'una che si rifiutava di interessarsi a qualunque cosa non conoscesse e la vivace intelligenza pronta ad apprezzare ogni cosa dell'altra. Il cuore gli si stringeva e pensava che avrebbe potuto legarsi per tutta la vita a una donna come Mildred. Una sera raccontò a Nora la storia del suo amore. Non era certo cosa che gli desse molti motivi di autostima e fu piacevole ricevere tanta umana simpatia. Penso che ormai ne sei fuori, disse lei, quando il racconto fu finito. Aveva uno strano modo di piegare la testa da una parte come un cucciolo di Aberdeen. Era seduta su una sedia a schienale rigido e cuciva perché non aveva certo tempo per ruziare mentre Philip si era accomodato ai suoi piedi. Non puoi sapere quanto sia contento che tutto sia finito, sospira lui. Povero, debbi aver passato momenti tremendi, mormorò Nora, e per mostrargli la sua simpatia gli posò una mano sulla spalla. Egli gliela presa e gliela baciò, ma lei la ritrasse rapidamente. Perché l'hai fatto? gli chiese arrossendo. Hai qualche obiezione? Ella lo guardò per un momento con occhi scintillanti e sorrise. No, disse. Egli si mise in ginocchio e la guardò. Lei ricambiò il suo sguardo, fissandolo negli occhi, e la sua grande bocca tremò. Allora, mi chiese, lo sai, sei meravigliosa. Ti sono grato di essere così buona con me. Mi piaci tanto. Non essere sciocco, rispose lei. Philip le prese i gomiti e la attrasse a sé. Lei non fece resistenza. Si piegò un poco e lui gli baciò le labbra rosse. Perché l'hai fatto? chiese lei nuovamente. Perché è gradevole? Lei non rispose. Ma nei suoi occhi apparve un'espressione tenera, mentre accarezzava dolcemente i capelli di lui. È una grossa sciocchezza da parte tua comportarti così. Eravamo dei buoni amici. Sarebbe forse meglio lasciare le cose come stanno. Se vuoi veramente appellarti alla parte migliore di me? disse Philip. Faresti meglio a non accarezzarmi la guancia, come stai facendo. Lei rise, ma non si fermò. È proprio una cosa sbagliata da parte mia, vero? disse. Philip, sorpreso e divertito, la guardò negli occhi e si accorse che sotto il suo sguardo questi si languidivano e assumevano un'espressione che lo incantava. Gli si stringse il cuore e all'improvviso gli salirono le lacrime agli occhi. Nora, mi vuoi bene? le chiese incredulo. Tu, un ragazzo così intelligente, fare domande così stupide. Oh mia cara, non avrei mai pensato che potessi volermi bene. La strinse tra le braccia e la baciò mentre lei rideva, arrossiva e piangeva, abbandonandosi alla sua stretta. Poi la lasciò andare e, accoccolandosi sui talloni, la guardò con curiosità. Solo senza fiato, disse. Perché? Sono sorpreso. E sei contento? Felice! esclamò lui con tutto il cuore. È orgoglioso, è lieto, è riconoscente. Le presere mani e le coprì di baci. Per Philip fu l'inizio di una felicità che sembrava essere solida e durevole. Diventarono amanti, ma restarono amici. C'era in ora un istinto materno che, nell'amore per Philip, trovava ogni insoddisfazione. Ella desiderava qualcuno da coccolare, da accarezzare, cui fare tenerezze. Aveva un temperamento casalingo e le piaceva avere cura di lui e delle sue cose. Aveva pietà della sua deformità, per la quale Philip era tanto sensibile, e la sua pietà estintivamente trovava la via della tenerezza. Era giovane, forte e sana. Le sembrava una cosa naturale amarla. Era allegra di buon umore, e Philip le piaceva perché rideva con lei di tutte le cose divertenti della vita, che attiravano la sua fantasia, ma soprattutto lo amava perché era lui. Quando glielo disse, lui le rispose allegramente, sciocchezze. Mi ami perché sono una persona silenziosa e non parlo mai. Philip invece non l'amava. Le voleva molto bene, era contento di stare con lei ed era interessato alla sua conversazione. Lei gli stava restituendo la fiducia in se stesso e curava con bassa mille ferite della sua anima. Era lusingato grandemente dall'attenzione di lei, ammirava il suo coraggio e il suo ottimismo. La sua sfida continua il fato. Ella aveva una sua piccola filosofia, ingenua e pratica. Sai, non credo nelle chiese, nei parroci e in tutte quelle cose, diceva lei, ma credo in Dio e non credo che gliene importi molto di quello che facciamo. A patto che lo facciamo fino in fondo onestamente, gli siamo disposti ad aiutare i deboli, se possiamo. Penso che nell'insieme la gente sia buona e compiango chi non lo è. E dopo? chiese Philip. Beh, non lo so per certo, sai, sorrise, ma spero per il meglio. E in ogni caso non ci saranno l'affitto da pagare e i romanzetti da scrivere. Aveva il dono tutto femminile della delicata adulazione. Pensava che Philip avesse fatto un atto di coraggio lasciando Parigi perché era consapevole di non poter diventare un grande artista e lui era felice di sentirla esprimere tutta la sua ammirazione per quest'atto. Non era mai stato certo, infatti, se fosse stata un'azione coraggiosa o il segno di una incapacità di tenere fede alle scelte. E adesso era felice che lei lo considerasse qualcosa di eroico. Ella alzardò perfino a un argomento che gli amici di Philip di solito evitavano. «È strano, da parte tua, essere tanto sensibile per quel tuo piede equino», gli disse. Lui arrossì, ma lei proseguì. «La gente, lo sai, non ci fa caso. Lo notano la prima volta che ti vedono e poi lo dimenticano». Philip non riuscì a rispondere. «S'hai arrabbiato con me? No. Nora lo abbracciò. Sai, ho parlato solo perché ti amo. Non voglio renderti infelice. Tu puoi dirmi tutto quello che vuoi», rispose lui sorridendo. «Vorrei fare qualcosa per dimostrarti tutta la mia gratitudine». Nora lo conduceva per mano anche in altri modi. Non gli permetteva di offendersi e rideva di lui quando perdeva la calma e si arrabbiava. Lo stava rendendo più civile. «Puoi fare di me quello che vuoi», Philip le disse una volta. «Ti dispiace? No. Voglio fare quello che piace a te». Egli capiva la propria felicità. Gli sembrava che lei gli desse tutto ciò che una moglie poteva dargli e ciò nonostante manteneva la propria libertà. Era l'amica più affascinante che avesse mai avuto, con una capacità di capirlo che non aveva mai trovato in un uomo. I rapporti sessuali non erano altro che un modo di rafforzare l'amicizia. La completavano, ma non erano la parte essenziale. E dal momento che gli appetiti di Philip erano soddisfatti, egli divenne più tranquillo e fu più facile vivergli accanto. Si sentiva totalmente padrona di sé. Talvolta ripensava all'inverno, in cui era stato ossessionato da quella terribile passione e si sentiva pieno di orrore per Mildred e per sé stesso. Gli esami si stavano avvicinando e Nora se ne preoccupava quanto lui. L'ansia di lei lo commuoveva e lo rusingava. Lei gli fece promettere di andare subito a dirle i risultati. Stavolta Philip passò tutte e tre le prove d'esame senza problemi e quando glielo comunicò lei scoppiò in lacrime. «Oh, sono tanto felice!» Ero così in ansia. «Scioccherella!» rise lui, ma era molto colpito. Nessuno avrebbe potuto non essere felice per il modo in cui lei aveva accolto la notizia. «E adesso che fai?» gli chiese. «Potrai in tutta serenità prendermi una vacanza!» «Non ho nulla da fare perché la prossima sessione comincia ad ottobre. Immagino che vorrei andare a Black Stable, da tuo zio. La tua supposizione è sbagliata. Resterò a Londra a divertirmi con te. Preferirei che tu andassi via. Perché? Sei stanca di me? Lei rise e gli mise le mani sulle spalle. Hai lavorato tanto e sei proprio ridotto male. Hai bisogno di aria fresca e di riposo. «Vai, per favore!» Philip non rispose, ma guardò con sguardo amoroso. «Non avrei mai creduto possibile che qualcuno pensasse solo al mio bene. Mi chiedo che cosa ci trovi in me. Mi darai delle buone referenze con il mese di preavviso?» disse lei ridendo vagliamente. «Tirò che sei attenta e gentile, che non sei esigente, che non ti offendi mai e che non sei mai un peso e che sei facile da accontentare». «Tutte sciocchezze», disse lei. «Ma voglio dirti una cosa. Io sono una delle poche persone che abbia mai conosciuto, che abbiano imparato qualcosa dall'esperienza». della Grazie a tutti.